Bella a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video su Brawl Stars, oggi è il secondo episodio Vi lascio subito al gameplay, vi ricordo di iscrivervi, lasciare like e attivare la campanellina In modo che nei prossimi video di Brawl Stars arriverà la notifica e potrete immediatamente guardarli Via alla sigla Eccoci ragazzi, siamo tornati su Brawl Stars, andiamo a provare oggi Colt Cominciamo subito con un bel arraffagemme e vediamo cosa ci riserva di bello questo bel brawler Allora, andiamo subito all'attacco, proviamo a fare un bel giretto Se prendete a un nemico con tutta la scarica di Colt, guardate, guardate I danni puri, quelli puri proprio Guardate, guardate, impressionante, impressionante Due scariche e fate fuori a tutti Due scariche e li fate fuori Ora questo non ce l'aspettano e noi Eccolo qua con la ulti Mamma mia, ma che cos'è quella ulti? Guardate, guardate i danni Guardate i danni Guardate i danni ragazzi Qui devo allontanarmi obbligatoriamente C'ho anche le quattro gemme E poteva anche lasciarla a me Vediamo se riusciamo Non siamo riusciti Loro ce la fanno Qua abbiamo failato una ulti Ottimo, ottimo, ottimo Scusate se sono rimasti un po' in silenzio Ero concentrato Ora se riusciamo a tenerle Cerchiamo di tenerli tutti lì Ci facciamo l'ultima kill E abbiamo vinto la prima partita Col nostro colt Stavolta non siamo stati migliori Ma va bene così Abbiamo fatto il nostro Direi che questo personaggio Si è giocato bene Io non l'ho giocato assolutamente bene Ma fa quei danni Fa quei buchi a terra Ma che è successo Sciogli i nemici Allora Ci andiamo a fare una sopravvivenza Questa volta Vediamo cosa succede in sopravvivenza con colt Penso qui bisogna essere abili A mantenere la distanza In un certo senso Ok Mamma mia come fa fuori velocemente Quella cassa Ok Qui attacchiamo Ci prendiamo l'altra Lì si stanno ammazzando Ottimo ragazzi Ottimo ragazzi Ottimo ragazzi Bellissimo Abbiamo fatto fuori un colt Mamma mia Ci sta anche uno di quelli là Che ti dà i pugni Oh Che vuoi tu? Cosa vuoi tu? Cosa vuoi dalla mia vita? Vai via Oh guardate molte belle cosette Che ci stanno qui Guardate molte belle cosette Siamo fortissimi Siamo fortissimi Ci stiamo caricando Ah ma siamo in due già Si riesco a fare Ok Bene Eccolo l'ho visto Lui ne ha solo quattro eh Mamma mia i danni che gli facciamo Guardate ragazzi Guardate i danni che facciamo Lui si mette lì E abbiamo vinto la partita ragazzi E' come se si è arreso Guardate Eh ci siamo andati a vincere Questa bella partitozza Guardate raga Eh si è arreso Bene ragazzi Abbiamo fatto Arrendere Arrendere Addirittura A un player Mamma mia colpo Mamma mia Mamma mia Ma che cos'è questo blower? Che cos'è? Questo blower Non so come ho detto blower Ma ho detto una grandissima Cazzata ecco Mamma mia Apriamo la casa 50 monetine Shelly Un bombardino Ah era il doppia Così Va benissimo Ok Adesso Direi di andare a fare Un altro Arraffageb Sempre con cold Aspetta Sblocchiamo questo A che ci siamo Benissimo Tra un po' Sblocchiamo Il toro Non mi ricordo Come si chiama Questo blower Quello che Come ulti C'ha la carica Qui si prende Tutti per davanti Che è anche Molto molto utile Per pushare Qualcuno Che ha le gemme Sua raffageb Mamma mia Pensava che Non l'avevo visto E qui Mamma mia Hanno fatto un assalto Di quelli Sono stati bravissimi Loro Veramente Veramente Bravi Si vede Che non so Giocare colt Ottimo 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 No No Ma perché 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 Un proiettile Mancava E quello ci butta La ulti Così Ma non si fa Ma sei un bastardo Ottimo Ma tu guarda Quell'orso Ma tu guarda Quell'orso E il mio Personaggio preferito È quello Anita Che stiamo Facendo Ragazzi Sì Siamo morti Va bene Ma abbiamo Fatto Tutto Tutto Il Lavoro Noi Abbiamo Chillato Quella che aveva Tutte Le gemme Ti rifaccio Fuori Bella Dai Dai Torna qui indietro Ti difendo io Leggiamo una ulti così Alla caccia Un di Canes Lei che vuole Venire qui da me Ma vai via Ma vai via Ma vai via Ci siamo vinti pure questa Ragazzi Mamma mia Grande Minnon Non abbiamo fatto Gran cam Ma abbiamo fatto Quella mossa Che ci ha permesso Di andarci a vincere La partita Bella ragazzi Bellissima Voglio imparare A giocarlo bene Questo brawler E E si fanno Le grandi cose Direi Di andarci a fare Un'altra sopravvivenza Per vedere Se abbiamo imparato Leggermente Come giocarlo Sicuramente Non al massimo Però Già è tanto Mamma mia Ragazzi Guardate qua Quanti Ce ne stanno E lui Già ci pusha Ma qui La situazione La vedo Un poco bruttina Oh 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 Ops Mi dispiace Però Dobbiamo stare attenti Che qui Ora siamo Molto in pericolo Mi dispiace Anita E Ti ho vista Che vuoi Tu da me Dalla mia vita Cosa vuoi Mamma mia Questo robot Quanto Ma quanto Mi sta Rompendo Esattamente Bravissimo Bravissimo Ecco Ora Ora non mi sta Rompendo più Ora mi piace Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che giocata ragazzi Saltare In direzione opposta L'avversario L'avversario Non ha capito Nulla Di quello che abbiamo fatto Se era andato sotto il robot Il robot L'ha quasi chillato E noi L'avversario Colpo finale Mamma mia Mamma mia Qui mi voglio prendere i meriti Perché ho fatto veramente Una bella Scusate Mamma mia Ragazzi Direi che Per oggi Può bastare Ci andiamo ad aprire Questa cassa Enorme 5 2 monete Oh i punti per colt Peccato 4 in più Serebbero stati molto Carini Il bombardino Che ci andiamo A giocare Al prossimo episodio Il video per oggi Termina qui Se vi è piaciuto Vi ricordo di iscrivervi Lasciare mi piace E attivare la campanellina Ci vediamo Al prossimo video Su Brawl Stars Un saluto anche Dai miei Capelli Dritti dritti Un po' Alla pazza Ecco Bene ora La situazione è sicuramente Migliorata Alla prossima ragazzi Un saluto dal vostro Necros